Tra poco Sul canale 17 di Fano TV L'informazione locale E allora non vogliamo più essere presi in giro Siamo stanchi, semplicemente stanchi Mareggiata Oasi con Fartigianato chiede un incontro con Comune Regione per la difesa della costa Mentre per la Lega Fano è ora di passare dalle parole ai fatti con le nuove scogliere Eroismo e dedizione, i carabinieri presentano il calendario storico e l'agenda 2020 Importante traguardo per la società adriatica Volley di Fano Selezionata per il progetto nazionale, l'Italia siete voi Buonasera e benvenuti sul canale 17 di Fano TV Per una nuova edizione di Occhio alla Notizia Edizione che apriamo con la cronaca Perché oggi pomeriggio i carabinieri delle compagnie di Fano e di Ancona Hanno restituito alla comunità di Fossombrone il dipinto della Madonna Orante Trafugato ben 27 anni fa dalla chiesa della Santissima Annunziata Sentiamo Una tela ad olio di 50 cm x 45 cm raffigurante una Madonna Orante Fu rubata nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 1992 dalla chiesa della Santissima Annunziata a Fossombrone Oggi dopo ben 27 anni e un lungo iter giudiziario I carabinieri della compagnia di Fano insieme ai colleghi di Ancona Hanno potuto restituire l'opera al sindaco Gabriele Bonci e quindi alla comunità della cittadina metaorense Il dipinto venne notato per la prima volta dai militari solo 5 anni dopo il furto Fu ritrovato infatti in una bancarella del mercato dell'antiquariato all'interno del complesso di San Michele a Fano La preziosa tela che raffigura la Vergine in veste rossa e velo azzurro con un libricino in mano nell'atto di pregare Aveva in origine un diadema di metallo sbalzato sul davanti Mentre sul retro era presente la scritta M puntato Bentivogli Probabilmente riferimento a un pittore marchigiano del XVIII secolo Elementi importanti descritti nella scheda di catalogo ma oggi non più rintracciabili nell'opera stessa I militari di Ancona avviarono poi una serie di verifiche che grazie al contributo della soprintendenza per i beni artistici e storici Permisero di risalire all'esatta provenienza Nel novembre del 97 il dipinto venne sequestrato a un'attività di antiquariato di Rimini E dalle indagini emerse che fu acquistato per 2 milioni delle vecchie lire da un antiquario di Fano Già noto alle forze di polizia perché coinvolto in altre indagini inerenti a furti d'opere d'arte da luoghi di culto Il commerciante riferì di averlo ricevuto in dono da un sacerdote e deceduto Ma venne condannato in primo grado per ricettazione Poi il ricorso in appello e il processo in cassazione ne allungarono i tempi Il risultato sicuramente è il frutto della sinergia tra la componente territoriale e quella speciale dell'arma dei carabinieri Da un lato i militari della compagnia di Fano Dall'altro i colleghi del comando tutela patrimonio culturale di Ancona Il risultato sicuramente è un risultato a favore della gente, del popolo fossembronese Tenuto conto dell'alto valore devozionale del dipinto Il processo che vi dall'epoca al comune di Fossombrone costituirsi parte civile Quale proprietario del bene trafugato Si è concluso con un provvedimento di archiviazione per sopraggiunta morte del commerciante Di conseguenza è stata disposta la restituzione del bene al legittimo proprietario E oggi nella caserma dei carabinieri di Fano i militari hanno restituito il dipinto al sindaco Affinché i forsembronesi possano tornare ad ammirare l'opera tra le proprie mura Intanto devo ringraziare l'arma dei carabinieri, il capitano papale di Fano Per la riconsegna di questo dipinto alla città di Fossombrone Un dipinto che mancava da tanti anni Tornerà a casa, molto probabilmente sarà collocato nella pinacoteca civica Visto che la chiesa dalla quale è stato sottratto è una chiesa oggi non ufficiata, non agibile Comunque un ritrovamento importante Quindi ringrazio di nuovo l'arma a nome mio di tutta la città di Fossombrone E quattro auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale Che si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 18.30 Lungo la statale Adriatica Metauriglia di Fano Nel tamponamento sono rimaste ferite due persone in modo non grave E sul posto per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Fano Oltre 1.300 identificati, 288 servizi di vigilanza, 65 convogli scortati, 24 pattuglie lungo le linee ferroviarie Questo il bilancio dell'attività del compartimento polizia ferroviaria per le marche Lumbria e l'Abruzzo Nel corso della settimana appena trascorsa In particolare la sezione Polfer di Foligno ha rintracciato un 19enne in difficoltà Che alcune ore prima si era arbitrariamente allontanato da una struttura medica Con l'intenzione di raggiungere Terni a bordo di un treno regionale Il giovane assistito dagli agenti è stato affidato ad un incaricato della struttura Giunto sul posto Protesta nazionale dei vigili del fuoco scesi nelle piazze italiane Per rivendicare i propri diritti A pochi giorni dalla morte dei pompieri in servizio ad Alessandria Anche a Pesaro si è svolto un sit-in di protesta Per chiedere più tutele per il corpo che continua ad essere sotto organico Tutti i dettagli nel servizio di Francesco Salvago Ci sfruttano Ecco il termine ci sfruttano solo per accapararsi i voti E non quant'altro dalla popolazione Che la stessa popolazione in noi riconosce il corpo più efficiente Partita da piazza Montecitorio a Roma La manifestazione nazionale di sciopero indetta dai sindacati confederali dei vigili del fuoco È arrivata anche in piazza del popolo a Pesaro Dove un corteo ha protestato davanti alla prefettura Per garantire una maggiore sicurezza del personale Oltre a sostenere il servizio da assicurare alla cittadinanza Il sit-in di protesta avverte su diversi punti che il corpo rivendica nei confronti del governo Tra cui la valorizzazione effettiva del punto di vista retributivo e previdenziale del lavoro Maggiore garanzia degli infortuni e delle malattie professionali tipiche Il riconoscimento reale della specificità dell'alta professionalità dei vigili del fuoco Ed infine risorse adeguate per il rinnovo del contratto di lavoro A livello locale è emersa la questione della carenza dell'organico Siamo sotto organico ormai da tempo e soprattutto Pesaro ci sono delle problematiche ancora superiori Rispetto a quello che è il trend negativo già nazionale Per non avere ripercussioni su quello che è il nostro, che è il servizio tecnico urgente Che è l'anello principale in emergenze ma anche nell'ordinario Il servizio tecnico urgente va valorizzato e in qualche modo va potenziato Quindi noi chiediamo questo Il prefetto ci ha rassicurato in molte problematiche, le conosceva molto E porterà la nostra voce ovviamente agli organi competenti Altro motivo di sciopero che rivendicano i vigili del fuoco è l'utilizzo quotidiano di attrezzature inattuali Abbiamo dei mezzi e delle attrezzature ormai obsolete Noi purtroppo utilizziamo mezzi e attrezzature che non sono più in grado di darci una risposta immediata Nell'intervenire e dare praticamente soccorso alle persone Quando un'attrezzatura o un mezzo non è più efficiente Non solo non ci permette di essere veloci ma rischiamo anche noi stessi di farci il male E per questo insomma la sicurezza dovrebbe essere una cosa fondamentale Non solo per noi, anzi non solo per la popolazione ma anche per noi La protesta prevede anche la proclamazione di quattro giorni di sciopero generale del personale Dopo il maltempo e la mareggiata che ha fragellato la costa provocando danni ingenti L'associazione Oasi Confartigianato di Fano chiede il completamento delle scogliere ma anche il ripascimento delle spiagge Ad oggi ci siamo ritrovati ad avere dei danni nuovamente nelle strutture A perdere lo spessore degli arenili, uno spessore importante Ci stiamo trovando svariate decine di migliaia di euro di danni agli impianti, alle strutture stesse È una situazione diciamo difficile Però ci sono stabilimenti, concessioni che sono veramente in condizioni pietose Sì, in effetti ci siamo trovati in questa situazione dove abbiamo degli stabilimenti che hanno retto meglio l'urto del mare E questo è accaduto dove siamo ben difesi dalle barriere delle scogliere Altro non è invece dove abbiamo le scogliere che hanno bisogno di manutenzione O addirittura dove le barriere, le scogliere mancano E lì abbiamo avuto i casini più grossi Andiamo nella zona sud di Fano dove la scogliera ha bisogno di essere risistemata E quanto prima, e lì ci abbiamo avuto dei disastri Andiamo nella zona centrale della Sassonia dove lo stesso, dove mancano le scogliere Lì ci abbiamo avuto un casino Stessa cosa a Gimarra, Arzilla Ugualmente dove le scogliere hanno bisogno di essere ripristinate o comunque sia rifatte E lì abbiamo avuto queste problematiche maggiori Avete fatto un comunicato, avete fatto un ulteriore appello Che cosa vorreste che fosse fatto a breve? Ma noi, come diciamo sempre in tutti gli incontri Vorremmo quanto prima che tutte le parole che vengono sempre spese Si trasformino nei fatti il più velocemente possibile Noi a breve abbiamo bisogno di ripristinare dove deve essere fatte le scogliere Dove devono essere realizzate, che vengono realizzate quanto prima E quello che chiediamo ad oggi, forse nella più immediatezza Sì, tutte le opere sulle scogliere e quant'altro Però sono dei procedimenti che magari richiedono un pochino più di tempo Ad oggi stiamo chiedendo di fare un summit Anche con Regione Comune e perché no Protezione Civile Per capire come possiamo difenderci Quali mezzi possiamo mettere in campo O soluzioni da mettere in campo Per poter difendere le nostre strutture in questo periodo di invernali Che subiamo le mareggiate E quindi noi oggi chiediamo anche sì le scogliere Ma dateci la possibilità di poterci difendere con le dune che stiamo facendo Sacconi che stiamo mettendo Ci sono altre soluzioni? Non lo so, ragioniamoci Però incontriamoci Aiutateci a capire come possiamo imporre un rimedio Per poterci salvaguardare da queste mareggiate E delle scogliere se ne è parlato anche ieri sera Durante il Consiglio Comunale di Fano Durante il quale i consiglieri della Lega hanno chiesto alla Giunta Seri Di passare dalle parole ai fatti È emerso che le nostre preoccupazioni riguardo i lavori di ultimazione delle scogliere Erano purtroppo fondati Perché dall'interpellanza di ieri sono emersi tre dati importanti Il primo è che ad oggi non è stato E' appaltato il lavoro di progettazione definitiva Non sono stati messi a bilancio i 200.000 euro richiesti dal Comune Per cofinanziare l'opera E forse peggio ancora Non è stato nemmeno richiesto formalmente alla Regione Di darci una mano e quindi spendere gli altri 800.000 euro Per completare le scogliere Che cosa chiedete come Lega Fano? Di fronte a un problema del genere Non ne facciamo assolutamente una questione partitica Per cui questa mattina abbiamo protocollato un ordine del giorno Per dare un mandato forte a Seri Affinché possa intercedere con la Regione E reperire i fondi necessari all'ultimazione delle scogliere E' ora di passare dalle parole ai fatti Gli ultimi due pennelli mancanti delle scogliere Quindi quelli che ci porterebbero fino alla diga foranea Sono una necessità primaria per Fano e per il Comune di Fano Tenuto conto che in un progetto di waterfront Come quello che stiamo approcciando in Consiglio Comunale Riteniamo che abbiamo la necessità di inserire assolutamente questo progetto Perché salvare le spiagge dall'erosione È fondamentale prima di poter riqualificare l'intera area E a proposito di mareggiate di maltempo La Sala della Protezione Civile delle Marche Ha emesso un nuovo messaggio di allertamento di livello giallo Valido su tutto il territorio regionale Dalla mezzanotte di stasera alla mezzanotte di domani Sabato 16 novembre Per criticità idraulica e idrogeologica Sono previsti infatti temporali su tutto il territorio regionale Adesso cambiamo argomento Aset Spa e l'amministrazione comunale di Fano Stanno valutando di portare l'acqua potabile Nelle abitazioni che in via Falcineto utilizzano ancora i pozzi privati Un analogo intervento in località Belgatto Sul lato verso Finile Richiederà invece tempi più lunghi Nel primo caso, spiega il presidente di Aset Reginelli Sarà necessario realizzare una conduttura di 1300 metri Che secondo le prime stime Richiederà un investimento di circa 180 mila euro Da inserire nel piano triennale dell'Ato L'autorità di settore Sarà poi compito di Aset provvedere alla copertura economica Per quanto riguarda Belgatto Invece sarà necessaria un'approfondita valutazione idraulica preliminare E a Mondolfo invece sono partiti i lavori di realizzazione Degli impianti di pubblica illuminazione nella zona sud di Marotta Si tratta del tratto che va dalle vele E giunge sino al nuovo sottovia di Via Foscolo Un investimento di circa 42 mila euro Che permetterà di collegare e rendere fruibile Un altro importante segmento di lungomare molto trafficato Il progetto prevede la messa in opera di 15 pali di ultima generazione a LED Continua dunque la rivoluzione luminosa voluta dalla Giunta Che va nella direzione del risparmio energetico E della riduzione dell'inquinamento luminoso Oggi pomeriggio nella caserma dei Carabinieri di Pesaro Sono stati presentati il calendario storico dell'arma Con una edizione narrativa da leggere E l'agenda 2020 Presentato il calendario storico e l'agenda 2020 Dell'arma dei Carabinieri Il prodotto editoriale vanta oltre un milione di copie Giunta la sua 87esima edizione La storia del calendario risale al 1928 Ripresa poi nel 1950 Dopo l'interruzione bellica Ed allora è stata puntualmente interprete Con le sue tavole della vicinanza dell'arma ai cittadini E attraverso di essa l'Italia Quello del 2020 è un calendario narrativo da leggere Racconta la solidarietà e l'attenzione verso il prossimo Con cui ogni militare dell'arma tutti i giorni in Italia e all'estero Svolge il proprio servizio attraverso le tavole Realizzate dall'artista Mimmo Paladino Massimo autore contemporaneo Leggere queste pagine ci riportano a dei momenti di vita Di contatto con i cittadini Che l'autrice ha saputo cogliere Dai racconti stessi dei Carabinieri E l'autore delle tavole Quindi questo bravissimo pittore Ha riportato con questi gesti Questi colpi di pennello Quelle immagini Appunto rappresentate Per iscritto invece Dalla Mazzantini L'agenda storica 2020 invece è incentrata sul tema Il centenario della scuola Marescialli E della nascita di salvo d'acquisto Che attraverso numerosi inserti Guida il lettore nelle varie tappe della storia Dall'importante istituto di formazione Fino all'odierna scuola Marescialli e Brigadieri Raccontandone l'evoluzione e le varie sedi Utilizzate a partire dal lontano 800 La manifestazione è stata inoltre occasione per presentare Altre due sempre più apprezzate opere editoriali Il calendarietto da tavolo Dedicato alle piazze d'Italia E il planning da tavolo Che racconta la banda dell'arma dei carabinieri Fiore all'occhiello dello straordinario patrimonio bandistico italiano Nel centenario della sua istituzione Fondi per dragaggi Opere preliminari per la vasca di colmata Lavori sulle banchine In tutto 3 milioni e 800 mila euro Nel piano trennale per la modernizzazione del porto di Pesaro Stanziati dall'autorità di sistema Non annuncia, ha detto il sindaco Ricci al tavolo del club nautico Ma novità rilevanti L'autorità di sistema ha colto la nostra richiesta Di destinare metà della darsena commerciale Alle imbarcazioni da di porto Ed è in attesa del via libera definitivo del ministero Notizia significativa Proseguito il primo cittadino Perché finora eravamo andati avanti con permessi annuali Nella lista concluso Ricci Anche la realizzazione di un ufficio distaccato Dell'autorità portuale Nell'edificio di proprietà del demanio Renderà l'organizzazione più funzionale Cambiamo argomento Importante traguardo per la società adriatica Volley di Fano Selezionata per il progetto nazionale L'Italia siete voi Sentiamo di che cosa si tratta E voi L'Italia Importante traguardo raggiunto dalla società adriatica Volley di Fano In ambito nazionale In quanto è stata scelta per il progetto di qualificazione del settore giovanile femminile Chiamato L'Italia siete voi Nel progetto sono state individuate in totale 118 società Delle oltre 4.000 circa affiliate alla FIPAV in tutta Italia Anche motivo di stimolo, di soddisfazione, di nuovi Di porsi nuovi obiettivi per tutta la società Perché in parte riconosce quello che di buono fino ad ora è stato fatto Ormai da anni nelle palestre in cui operiamo si ritrovano periodicamente circa 250 atleti In gran parte delle scuole elementari e medie E questo per noi è motivo di orgoglio E queste iniziative ci fanno mettere nuova energia e cercare di fare ancora meglio Questa selezione è stata fatta anche attraverso dei criteri ben precisi Sì, questa selezione è stata fatta seguendo La federazione pallavolo da tempo adotta un sistema di marchio di qualità A cui noi siamo oramai abbonati da molti anni Siamo nella categoria intermedia che si chiama qualità d'argento A seguito di un breve incontro con lo staff tecnico È stato effettuato un doppio allenamento Il primo con le atlete Under 16 del gruppo In collaborazione con la società APAV di Lucrezia Il secondo invece con un gruppo Under 14 Con l'attività di partecipazione ai lavori dei tecnici della società Codiuvati dall'allenatore Oscar Maghella Quali sono i consigli di solito che dà ai ragazzi prima di una partita? Noi tecnici dobbiamo abituarci a coinvolgere effettivamente Le atlete e le ragazze nell'apprendimento Le loro opinioni, le loro sensazioni, ciò che loro pensano Sono assolutamente importanti per loro, per noi e per il loro apprendimento E con questa notizia sportiva siamo al termine della nostra edizione di Occhio alla Notizia Vi ricordo prima che lunedì sera torna primo cittadino Ospite della puntata sarà Emanuele Feduzzi, sindaco di Fermignano Potete come sempre intervenire in diretta telefonandolo 0721 86 14 33 Oppure potete inviarci un breve messaggio di testo al 338 49 68 250 Anche con Whatsapp E io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale L'informazione torna come sempre puntualmente domattina alle 7 Con la nostra rassegna stampa Grazie per averci seguito e arrivederci Grazie per averci seguito e arrivederci